Ben tornati sul mio canale YouTube, oggi iniziamo un nuovissimo gameplay di Rise of the Tomb Raider Lo inizio direttamente qui con voi Calibrazione, quindi Ok Vediamo, nuova partita ragazzi, nuova partita Difficoltà, avventure, esplorazione Esplorazione ragazzi Tra l'altro Vi invito anche a seguire i nuovi gameplay della Formula 1 2016 Ok, vediamo tra l'inizio Da bambini ci facciamo domande sul mondo Impariamo, accettiamo E perdiamo la capacità di meravigliarci Ma alcuni no Gli esploratori, chi ricerca la verità Sono questi i pionieri che definiscono il futuro dell'umanità Quegli altri Non vengono Nessuna cifra li farà andare oltre quelle vette La città perduta deve essere lassù Sarà un'arrampicata infernale Io non mi tiro indietro Lo so Dovresti star qui con loro Scordatelo Molto bella la grafica ragazzi Ve lo dico Siamo su Playstation 4 Ma nonostante ciò La grafica È di un bel impatto Ho fatto anche Tomb Raider Definitive Edition Quindi il capitolo precedente a questo Insomma qui la grafica è esattamente migliore Ti aspetto una gran bella vista Lara Aggrappati a me Grazie Guarda che bello Cosa siamo? Sul level? La neve che scende da quelle vette È un brutto segno Il sentiero si inerpica sulla montagna Dalla cima avremo una buona visuale della valle dall'altra parte Bene Ma andiamoci piano C'è un vento fortissimo Dobbiamo solo continuare a muoverci Ehi Anche se non troveremo niente qua su Tuo padre sarebbe fiero di te Già Ma sento che troveremo qualcosa Ragazzi la grafica è da fare in video È un certo e quattro Capitolo che ho sempre giocato Per intero Che è anche la collection Ma Un certo 4 Aveva una bella grafica Tutto a posto Questo non Non lo tema assolutamente Ok Allora Quando prendi la bella per aggrapparti È troppo pericoloso Eh ricorda molto Ancciate il 4 Sei sicura? Tu resta dove sei? Pareti stisano appigli per scalare pareti di roccia e ghiaccio Allora Ok Come nell'altro capitolo Abbiamo il nostro ticcone Ah di qua dobbiamo andare Va bene Allora Allora tranquilli Saltiamo Il ticcone Ok Andiamo a saltare di là Sì Ok Ora Perra La mia Perra Presa Ok Un certo Di tutorial Mi farai venire un infarto Va tutto bene? Sì Forza Sembra sia un passaggio obbligato Continuiamo Ok ripariamoci questa grotta dall'asunzetto Credi davvero che troveremo la città scomparsa Grazie Veramente bella Anche se presto per dirlo Ma Diceva di aver visto delle rovine Tra queste vele L'effetto iniziale Per risolvere di dubbio Fantastico Crei che se dovesse nascondere una città perduta Anche gli effetti di luce ragazzi Sarebbe l'ideale Spero solo che la trinità non sia arrivata prima di noi La tempesta si avvicina Abbiamo un paio d'ore al massimo Dovrebbero bastare Siamo quasi in cima Che ne pensi? Ci siamo quasi Me lo sento Un ultimo sforzo e siamo in vita Ok Vediamo che c'è Anche i volti La pelle ragazzi È fatta veramente bene Magari non lo notate La registrazione Perché un po' di qualità La verde Ma Il 1080p Sulla FD Vi è sicuro che Infatti è fantastico Ok Potrebbe venire giù del ghiaccio Ok Ci inficconiamo Andiamo Ok Salviamo Il nostro amico rimane giù Ecco Vieni E' un dolfo di ghiaccio instabile Qua su Facciamo piano e con calma Non mollare adesso C'è mancato poco Eh sì C'è mancato veramente poco Servette ghiacciate Ma non ho capito Di che posto siamo Si può avere Non lo so Vediamo Se sappiamo qualcosa C'è una capacità Di subito qui E' attento Il ghiaccio Ha fatto benissimo Gli effetti atmosferici La neve La contesta Gli effetti di luce L'audio Una buonissima Bellissima Sopresa Riesci a saltare di là Ce la posso fare Vediamo Olè Oh Ok E' attento che c'è Resta lì Ti fisso una cima in vetta Ok Ti do un po' di cota Andrà l'audio dei tuoni Di un poraio Beggio di così può andare Sei quasi Lara Fai così Ok Ok Un monastero Vedo le rovine Le rovine Oddio Guarda a casa L'ho la puntezza adesso Ale Eh Quell'altro amico Non ci tiene qua Ti tengo Ti tengo Una bella bossa Nella schiena Mi senti? Sì Ora ti tiro su Oh Merda Là Guarda là Svelto Fammi oscillare Fino all'altro lato Ok Ecco Ok Dobbiamo Oscillare Ancora Mannaggia Ancora Dai Ma Non è Non è No No Ti lascia Caro amico Non riesco a tenerti La corda scivola Eh Arrampicati 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 Sono Cazzo! Dai, dai, dai! Torni indietro, Jonah! Vai al rifugio! Ah! Dai! Ah! 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 Perché sto ancora installando, ragazzi! Vabbè! Eh! Sta ancora installando il gioco! Comunque, dai, come questo primo impatto non è stato assolutamente niente male! Spero comunque che abbiate apprezzato e ci vediamo alla prossima!